Lui è nato il 13, venerdì 13, lui è nato mercoledì 18. Diventare papà e nonno a distanza solamente di 5 giorni. E questa è la straordinaria storia di Cesare Ristori, campione di freccette di Bibbiena, che grazie ad una rara e speciale coincidenza ha potuto condividere con il figlio Walter, 25enne, la gioia della paternità. Cesare, di 45 anni, è infatti diventato nonno di Anthony il 13 gennaio scorso e solamente 5 giorni dopo è diventato papà del piccolo Gioele, nato il 18 gennaio a Ponte Aniccheri. Dopo lungo pensare abbiamo deciso anche noi di avere un bimbo, senza saperlo ci siamo trovati in contemporanea con loro e insomma è venuta fuori questa bella sorpresa che non aveva nemmeno aspettata perché i tempi erano un po' diversi, però diciamo che il fatto ha voluto accorciare fino a portarli quasi vicino. Come hanno già detto comunque è una bella sorpresa, non è una cosa che capita sempre, quindi è una gran gioia. E la storia ha un altro curioso tassello. Miriam, la nuora, si è accorta della gravidanza solamente alla trentesima settimana. Avevamo avuto questo incidente che mi aveva un pochino cambiato fisicamente e pensavamo fossero tutte delle conseguenze dell'incidente, poi abbiamo scoperto invece che la pancia mi si era un pochino ingrandita per via di lui. Adesso si cresce un po' tutti insieme qui in questa famiglia? Eh sì, praticamente saranno quasi due gemellini.